Un'azienda che affonda le sue radici a Foligno, nella città della Quintana, e che dal 1980 si è fatta spazio nel mercato dell'automobile, affermandosi in tutta la provincia di Perugia. È la Peugeot Golinelli, concessionario ufficiale del marchio francese, amministrata da Giancarlo e Carlo, padre e figlio, che guidano una squadra di 25 dipendenti. Nasce appunto nel 1980 sul consiglio di mio nonno, che era già nel mondo comunque del commercio e dell'imprenditoria, dal 1946, quindi diciamo che un po' il commercio ce l'abbiamo nel sangue, si può dire. Dopo il rinnovamento nel 2010 della sede storica di Foligno, nel 2013 apre lo showroom di Perugia in via Settevalli, un investimento importante con il quale la concessionario Golinelli punta ad ampliale fatturato e clientela, perseguendo l'obiettivo di vendita di un migliaio di macchine all'anno. Una cosa che ci rende molto orgogliosi di questo passaggio anche all'area di Perugia è quella che, mentre di solito sono i grandi gruppi che già lavoravano su Perugia ad essersi estesi nel comprensorio di Foligno, soprattutto dopo anche questa grave crisi che c'è stata in questi anni, diciamo noi siamo uno dei pochi casi in cui dalla piccola concessionaria di Foligno, diciamo di provincia, stiamo passando a gestire anche quello che è il nostro capoluogo. Tra i servizi offerti, oltre alla vendita di veicoli nuovi e usati e veicoli industriali fino a 35 quintali di massa, la concessionaria Golinelli offre un supporto al cliente a 360 gradi, dalla rivendita di accessori auto, moto e scooter e dei pezzi di ricambio, fino al servizio pneumatici con deposito estivo e invernale, servizio riparazioni carrozzeria e officina meccanica, senza dimenticare la consulenza in termini di finanziamenti all'acquisto e nella fase del post vendita. Ci siamo un po' sempre contraddistinti, anche nella nostra sede storica, per questa vicinanza al cliente, per cercare di dare sempre il massimo dei servizi, il massimo della disponibilità, cercando di essere non solo commercianti e quindi venditori di un prodotto, ma anche consulenti, per cercare sempre di dare ad ogni cliente quello che è il mezzo più giusto per le sue esigenze reali. Abbiamo un gruppo, anche in questa sede di Perugia, che è tutto molto giovane come età media, ma che allo stesso tempo ha un'esperienza di media più che decennale. E questa sicuramente è una buona base per poter poi crescere da questo punto in poi.